Buona giornata, buona giornata amici da Fano TV pronti per la rassegna stampa. Iniziamo insieme la giornata dando un'occhiata al Corriere Adriatico e al resto del Calino con le pagine locali per vedere quali sono le notizie del giorno, le notizie di ieri che ora o che oggi vengono pubblicate. Come sempre iniziamo dall'Almanacco per dare un quadro di vita al giorno di oggi e vediamo che il santo che si festeggia è un santo importante, San Matteo. San Matteo si chiamava Levi una volta e fu l'autore del primo Vangelo, faceva il gabagliere a Caparnao, insomma riscuoteva le tasse. Quando Gesù gli disse di seguirlo e Matteo lo seguì. Predicò il Vangelo in Africa, fu vescovo, specialmente in Etiopia. Morì però trucidato da una squadra di pagani. Le sue reliquie sono costudite nella cattedrale di Salerno. Prima furono trasportate in Bretagna, poi da lì giunsero nella cattedrale italiana appunto a Salerno, in un duomo veramente splendido. Vediamo anche le previsioni del tempo. Vediamo che il sole è sorto oggi alle 6.53 e tramonterà alle 19.09. Sarà una giornata all'insegna della instabilità tra mattino e pomeriggio con piovaschi che giungeranno prima al nord e poi si sposteranno al sud della regione. Le massime sono leggermente in calo. Ieri avevamo 21 gradi, oggi saranno 20 gradi, siamo scesi a 20 gradi. Le minime invece sono a 16 gradi. I venti spireranno sulle coste con una tensione debole da est e nord-est, sull'interno invece da una direzione precisa da est. E come abbiamo detto le temperature sono in calo, il mare è mosso. Ed ora apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Vediamo l'apertura dedicata ad un fatto, ad una denuncia che proviene dalla scuola Padalino. Un ragazzino cade in bicicletta, si rompe il polso, si sospetta la manomissione dei freni. Vittima una studente che frequenta la scuola media. Nella scuola poi sono stati segnalati anche altri atti di vandalismo ai danni dei velocipidi. La scuola è iniziata da poco, ma già un motivo di preoccupazione agita i genitori dei bambini che frequentano la media. Ebbene c'è stato un incidente, un bambino che va a scuola in bicicletta. La scuola è situata nel centro storico di Fano, quindi è difficile giungervi in macchina. Il mezzo più usato è quello della bicicletta. Il bambino tornava a casa, finite le lezioni, ma nel momento in cui ha affrontato la discesa parallela, prossima alla rocca malatestiana, quella che confluisce in via Nazario Sauro, è caduto perché frenando la bicicletta non ha frenato. I freni non funzionavano, il bambino è caduto. Si è procurato delle contusioni, delle abrasioni e anche la rottura del polso. Ebbene quando poi si è un po' riflettuto su quanto è avvenuto, è venuto assolto il sospetto che non è stato un incidente, ma la causa sarebbe stata anche un atto di vandalismo. Sarebbero stati manomessi i freni. Questo perché nella scuola Padalino sono venuti altri episodi di carattere simile, di danneggiamento delle biciclette. Si parla di puntine da disegno conficcate nelle ruote, forcelle allentate, freni appunto danneggiati. Insomma questo destra una certa preoccupazione. Già in passato i genitori avevano denunciato questa situazione alla vecchia dirigente, ora ci si appresta a fare altrettanto alla nuova, che ha appena preso il governo della scuola all'inizio di quest'anno scolastico, ma appunto occorre prestare molta attenzione di fronte a questi scherzi. Sono scherzi oppure sono veramente atti delinquenziali. Passiamo alle altre notizie. C'è una risposta alla polemica intentata dalla consigliera regionale, Micaela Vitri, del Partito Democratico, in merito alla organizzazione delle preselezioni del concorso di Miss Italia a Fano. Micaela Vitri aveva così criticato lo stanziamento di 120 milioni che era stato approvato dalla Regione Marche in favore di questa iniziativa, dicendo che era stata una trippa, virgola, elettorale di Mirko Carloni. Risponde oggi sui giornali il presidente dell'Associazione Albergatori, Luciano Cecchini, che dice che contestare il finanziamento regionale di 120 mila euro significa voler soffocare le opportunità di promozione della città e soprattutto danneggiare l'attività di alberghi e ristoranti. Perché questo? Perché grazie a questo concorso, a questa manifestazione, in città sono arrivate 600 persone, tra le 200 ragazze e poi tutto il contesto dello staff, i parenti e gli amici delle ragazze, che hanno soggiornato negli alberghi, che hanno mangiato nei ristoranti, che hanno preso aperitivi nei bar, hanno acquistato nei negozi. Quindi l'economia cittadina si è alimentata, grazie a questa manifestazione, e invece di chiudere la stagione turistica con l'ultima manifestazione dell'incontro polifonico-valatestiano, che cadeva il 10 settembre scorso, ebbene c'è stato un progresso, insomma si è andati avanti, gli alberghi sono restati aperti e la città se ne è avvantaggiato. Polemiche che per Luciano Cecchini sembrano fuori luogo quelle attivate dalla consigliera regionale. Giriamo la pagina e vediamo come un altro articolo riguarda invece una soddisfazione che nasce a San Costanzo in modo particolare. Discarica, stop all'ampliamento, è stato decretato dalla Regione Marche, questa è una vittoria per tutti. Il Comitato Ambiente Vivo esulta a nome dei 2000 di San Costanzo mobilitati. Ebbene lo stop al riempimento anticipato della discarica gestita da Marche Multiservizi, ovvero Caluccio di Urbino, Casprete di Tavuglia, e no all'ampliamento dell'impianto di Monteschiantello come unico sito di smaltimento dei rifiuti provinciali, e l'impianto di Monteschiantello, lo sappiamo, è gestito da ASET, ha sollevato la soddisfazione appunto degli ambientalisti che sono dimostrati sempre contrari a questa situazione, a questo provvedimento. Poi vedremo invece sul resto del carlino come su questa questione interviene il presidente di ASET, Paolo Reginelli. Ma intanto andiamo a Cogli al Metauro, a Cogli al Metauro per un articolo di cronaca. Un giovane sorvegliava un campo di marijuana, è stato condannato a due anni e sei mesi, doveva controllare una serra che era occultata in maniera molto molto intelligente, tra virgolette ovviamente questa parola, sotto un pascolo di pecore, ma la cosa comunque non è andata a buon fine, la cosa non è sfuggita agli inquirenti. Le pecore sopra la piantagione di marijuana, questa è la grande fantasia appunto dei malviventi che cercano in ogni modo di far sfuggire le loro azioni dall'attenzione degli inquirenti. A maggio scattò l'arresto per un 26enne albanese. L'uomo viveva in una struttura di fortuna accanto a una serra a Monte Maggiore al Metauro. Il terreno dopo la confisca era finito all'asta, è venduto nei primi di maggio. E questo ha così dato l'opportunità di verificare la natura del terreno e si è scoperto tutto l'inghippo. L'avvocato del giovane, Marco Defendini, no omen, no omen, ha patteggiato a due anni e sei mesi. Verranno avviate comunque le pratiche per l'espulsione. Al momento il giovane si trova in carcere a Villa Fastigi. Veniamo anche alle altre notizie che riguardano Senigallia, Senigallia martoriata, Senigallia vittima della nuova alluvione che dopo il 2014 ha seminato lutti e rovine in tutto il comune. Vediamo che ancora si parla di strade a rischio, ancora fermi i bus e il servizio di trasporto pubblico. Le scuole saranno chiuse per altri due giorni. Out un tratto di statale non funziona, è chiusa. Da via Zanella a via Bonopera. Da domani si potranno compilare i moduli per i rimborsi. Comunque non è che subito dopo arriveranno i rimborsi, ma ci vorrà del tempo se arriveranno. Prorogata dunque di altri due giorni la chiusura delle scuole per problemi legati soprattutto alla viabilità. L'alluvione però non deve scoraggiare i turisti. Occorre tornare subito alla normalità. Insomma, le esigenze di tutti i giorni incombono anche di fronte a un grande problema come quello causato dall'alluvione. Passeggiate in spiaggia e pranzi al ristorante. Così sperano gli operatori economici. Tassi dell'Asso Hotel, presidente appunto di questa associazione di categoria, dice chi non ha danni operi subito a pieno regime per cercare di far tornare la città al più presto alla normalità. Veniamo alla regione, la pagina regionale. L'allarme per la piena scattato dopo i morti. La protezione civile regionale ha avvisato i comuni alle 22, quando mai l'alluvione era già in atto, era in pieno regime. Nella rete di monitoraggio, l'unico sensore utile è Bettolelle. Ebbene, diamo un'occhiata a questo articolo e vediamo come l'allarme della sala operativa della protezione civile regionale ai sindaci per l'ondata di piena che stava montando sul bacino idrografico del Misa è partito soltanto dopo le ore 22 di giovedì. Solo allora il livello idrometrico ha superato la soglia di allarme nell'unico punto di rilevamento che è quello appunto di Bettolelle dove c'è una rete di monitoraggio meteo-idrologico regionale. Troppo tardi, come cercare di chiudere la stalla quando i buoi sono fuggiti. E appunto su questo c'è l'inchiesta attivata dalla Procura. E poi c'è anche un risvolto della medaglia. Ci sono i morti e ci sono anche i funerali. Ebbene, in questo caso la protezione civile destina un contributo di 1.500 euro a vittima. Un contributo considerato del tutto insufficiente da parte dei familiari. E una mancetta hanno dichiarato. Una cifra assurda. La cifra comunque è stabilita da una ordinanza che è stata firmata dal capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. E poi c'è anche un'altra notizia. Dispersi trovata l'auto di Brunella Chiù e c'è una fiaccolata per Mattia, il bambino di cui si trovano le tracce ma non il corpicino se Mattia è deceduto. Ed ecco come si gestisce un fiume. L'esempio virtuoso di Lucioni per la collaborazione pubblico-privato ha messo in sicurezza Lesino. Un esempio da seguire. Veniamo alle cronache pesaresi dove si cerca di mettere in sicurezza il fiume Foglia. Il fiume Foglia è uno dei fiumi principali della provincia di Pesaro Urbino dopo ovviamente il Metauro. Ebbene questo però costituisce un potenziale pericolo per tutta la città di Pesaro. E quindi da tempo si pensa di attuare una cassa di espansione che possa contenere l'acqua che con una grande ondata di piena potrebbe giungere improvvisamente verso la foce a restarla prima che invada la città di Pesaro. Ma tutto questo langue da molto molto tempo. Cassa di colmata per il Foglia abbiamo ricominciato dall'anno zero dicono appunto i progettisti costretti a revisionare tutto il piano del 2021 per l'aumento dei costi. Si va a rilento ma poi si deve ricominciare da capo proprio per il caro energia il caro delle materie prime che costituiscono un problema per tutti i lavori pubblici. Ebbene si progetta di realizzare una cassa di espansione presso la chiusa di Ginestreto la legione vi ha investito 1.300.000 euro e solo una parte dei soldi che servono perché il totale della spesa monta 5 milioni di euro ed è stato provato il progetto esecutivo il bando di gara entro il 2022 poi si procederà per il 2023 e degli anni a venire. Abbattimento della Liglieri via ai lavori entro novembre si preannuncia per rifare la scuola dove è già pronto un investimento di 6 milioni e mezzo di euro questo per quanto riguarda l'edilizia ospedaliera. E poi vediamo invece quali sono gli investimenti della città di Pesaro si parla di 136 milioni una cifra veramente eccezionale c'è in agenda un'ultitudine di opere da record assoluto fondi del PNRR incentivano gli investimenti nella città di Pesaro dove verranno realizzati nuovi impianti sportivi le scogliere da tanto realizzato e nuove scuole. Il Comune afferma entro marzo gli interventi verranno eseguiti su degli asset strategici di Pesaro 2024. Insomma si parla del piano delle opere si amplia con un impianto con diversi progetti che riguardano come abbiamo detto impianti sportivi scogliere e scuole. E poi girando la pagina vediamo quello che si è rinvenuto in Piazza del Popolo dove procedono i lavori per il rifacimento del piano stradale si è scoperto il ciotolato e cosa si è trovato di sotto ebbene stavolta dopo il muro che si è venuto la luce nei pressi del Palazzo Ducale si sono trovati due scheletri due scheletri che probabilmente risalgono all'epoca medievale. cantiere in Piazza del Popolo emergono ossa e due scheletri la sopraintendenza è sul posto con la funzionaria Ciuccarelli Raffaella Ciuccarelli e l'assessore Pozzi rassicura nessuno stop ai lavori si procederà ugualmente purtroppo non si approfondiranno le indagini in merito alle esigenze archeologiche su questa grande superficie che potrebbe rivelare chissà quali sorprese comunque si tratta di due personaggi che probabilmente furono sepolti nell'ambito nella chiesa di San Domenico che costituisce una delle facciate di Piazza del Popolo di Pesaro quella che fu poi adibita a Palazzo delle Poste potrebbe trattarsi di sepoltura legata alla vecchia chiesa di San Domenico oggi Palazzo delle Poste davanti al quale la scorsa settimana era emerso un muro largo oltre mezzo metro e un altro muro più raffinato che si sviluppa davanti all'entrata di Palazzo Ducale quello di cui avevo accennato e che probabilmente appartiene ad un cunicolo che veniva usato in caso di assedio per collegare Palazzo Ducale a Rocca Costanza quindi un'appartenenza all'epoca medievale all'epoca malatestiana sforzesca vediamo ancora le notizie che riguardano Urbino sloggiate associazioni e contrada i locali all'Accademia di Belle Arti disagio diffuso per la nuova concessione dell'immobile comunale di Via Valerio la notizia è trappelata di Ricente l'Accademia di Belle Arti di Urbino vista la mancanza di aule avrà degli spazi in Via Valerio e questo per soperire ai disagi degli alunni non c'è stato un vero e proprio confronto a riguardo con l'amministrazione comunale proprietaria ha spiegato Giovanna Giusto che è presidente dell'associazione artigianarte di cui fanno parte diverse attività della via sono infatti destinati all'Accademia di Belle Arti un ampio salone a livello della strada usato da diversi anni proprio dall'associazione di cui è presidente Giovanna Giusto ed ora passiamo al resto del Carlino l'apertura stavolta si riferisce al caro energia che costituisce un problema non solo per le famiglie e le aziende ma anche per l'amministrazione comunale e che cosa si fa per sopperire a questo aumento indiscriminato dei costi ebbene si pensa di risparmiare soldi chiudendo la luce di notte per le vie e le piazze della città monumenti al buio lampioni alternati si risparmierebbe più di un milione all'anno il comune ragiona e cerca di trovare la via per il contenimento dei consumi ma Brandoni dice cercano una via di fuga per non fare la variante Brandoni responsabile politico della Lega ebbene lo scenario che si prospetta è fosco è buio possiamo dire proprio realmente l'illuminazione pubblica spenta l'una di notte fino alle 5 del mattino e questo è un po' quello che si profila c'è dicevo una dichiarazione ho detto prima del presidente di ASET Paolo Reginelli che dice che nel 2023 l'illuminazione pubblica con le tariffe attualmente in vigore il comune spenderebbe 2 milioni di euro in più rispetto al 2021 quindi veramente cresce di molto la cifra in queste condizioni la priorità dell'ente pubblico dice Rovinelli e subito quella del risparmio e poi abbiamo una notizia importante almeno per la diretta interessata ebbene Adriana Mollaroli è stata considerata completamente innocente in merito al processo che accusava alcuni consiglieri regionali di spese pazze di spese impropri di spese insomma che non dovevano essere fatte con i soldi della regione ma dovevano essere fatte con i soldi di ciascun consigliere la Mollaroli assolta la fine di un incubo prima avevano scampato il processo poi erano dovuti tornare davanti al giudice e portarsi a casa una condanna insomma si parla di diversi consiglieri regionali tra cui c'è anche l'ex consigliera Adriana Mollaroli che dopo sei anni di tribunale la Corte d'Appello Ancona e via dicendo ha potuto trarre un sospiro di sollievo è veramente si è fatta giustizia per Mollaroli e poi anche la combattente si comincia a soffrire notevolmente per quanto riguarda il caro energia la storica società bocciofila fa i conti con i rincari le bollette sono quadruplicate così si chiude contributi non ce ne sono contributi zero una lettera viene spedita al Vezzali che sappiamo candidata al Parlamento così non possiamo andare avanti ci toccherà chiudere e i nostri campioni che fine faranno lo ha detto appunto il presidente della storica società di bocce Luciano Gasparelli nel 2024 noi e i nostri 200 soci festeggiamo un secolo di vita ci arriveremo e beh insomma visti questi chiari di luna è molto difficile anche il resto del Carlino parla della reazione che il presidente degli albergatori ha esposto in merito alle accuse diciamo alle proteste della consigliera regionale Micaela Vitri per l'organizzazione delle preselezioni di Miss Italia a Fano magari ci fosse tutti gli anni ha detto Cecchini Miss Italia ha riempito gli alberghi pensate circa 2400 presenze fuori stagione perché ormai siamo in bassa stagione una benedizione per molte attività economiche del nostro territorio non solo gli alberghi ma anche i ristoranti bar gli esercizi commerciali ebbene 600 persone che arrivano e soggiorno a Fano per 4-5 giorni non è poco per coloro che hanno sofferto molto a parte l'estate che è andata bene sul piano turistico ma poi hanno sofferto molto per tutti i mesi in cui ha furoreggiato la pandemia il Covid e poi una notizia di cronaca l'ite in famiglia lui lo afferra lei lo afferra lui le frattura due dita una guerra di roses tra famiglia il marito un sessontenne pensionato di Fano finisce a processo per lesioni ma la moglie che è una badante di 55 anni non l'ha lasciato hanno litigato tutti e due la donna ammessa che ha provocato l'uomo stringendolo stringendolo per il collo lui invece ha preso la mano e gli ha rotto due dita insomma è stata una una lite familiare che però è finita davanti al giudice perché quello che è avvenuto è un caso che viene avanti d'ufficio e quindi per forza hanno dovuto testimoniare davanti al giudice un'altra notizia di cronaca poi di spalla su questa pagina del resto del carlino vuole fare il pacere ma con il coltello botte in una struttura che ospita extracomunitari il mediatore perde le staffe ebbene che cosa è accaduto è accaduto che un uomo voleva fare da pacere in una lite tra due coinquilini invece è finito a processo per aver aggredito uno dei due rivali con pugni e fendenti il fatto è successo in una struttura affanese che ospita extracomunitari e immigrati nel dicembre del 2018 non viene identificata questa struttura ma l'imputato un 24enne afgano risultato poi residente a Novara secondo quanto emerso dalle indagini sarebbe intervenuto nella lite tra due stranieri reagendo in maniera in consulta poi nei confronti di uno di questi e poi dunque tirando fuori addirittura il coltello somma una lite che è cominciata per essere riappacificata ed è finita invece per essere movimentata ancora di più e siamo in conclusione soltanto i titoli dello sport per quanto riguarda la visse di Paola e Cusumano saltano il derby sono infortunati stiramento per il centrocampista e il difensore staranno fuori almeno per tre settimane e per quanto riguarda l'Alma due campi per il Fano noi pronti a investire il presidente russo lo vediamo qui in un'immagine dice piazza d'armi da riqualificare quella lungo via Piceno con erba e sintetico illuminazione recinzione e impianto di irrigazione sono altre priorità un campo di allenamento che deve essere messo a frutto e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 in punto e per stasera alle ore 20 e 30 nel TV nel TG anzi occhio alla notizia condotto da Simona Zonghetti questo è tutto ancora buongiorno a risentirci grazie a tutti